Sto facendo un test questa sera perché sto streamando a 1080p Sto streamando a 1080p e... insomma... Vediamo Ti voglio bene io Anche io E vai, ciao User left to the channel E niente Buonasera E infatti stasera si tenterà Tutto rego vedremo Gabriel perché questa sera vorrei tentare di recuperare insomma la... Il mal tolto Quindi adesso mi aprirò una bella mappa di My Summer Car My Summer Car Map E cercherò di questa sera di recuperarmi Chi mi ha scritto? Ah si, è uscito lo show del signor Carimusa ma voi siete qui quindi zitti Io non l'ho visto Adesso io cercherò di andare dove ho bisogno di andare Ah si, mi ricordo Sei quello biondo che c'è la faccia da pirla Marcelin Per tre mesi Benvenuto nel bronzo Contenta? Contento Non mi ricordo mai Io mi dimentico i sessi delle persone Vi chiedo scusa Mia madre ti auguro una buona serata Va bene Grazie mille Buonasera Buonasera Come mi si vede? Mi si vede meglio? Da chi mi faccio aiutare? Da nessuno Perché non è sceso nessuno Quindi mi arrangio stasera Mi sa Chi è? Arrivo tra un po' Mi ha scritto Moro Va bene Perché immagino si stiano guardando il video senza di me questi stronzi Va bene Moro E la madonna quanto relax Lucky Ok Allora Io devo partire Da dove parto? Naturalmente Home Che è lì Io adesso vi linko la mappa Posso fare? No aspetta così Ok Share Copio Così magari vi fate una piccola idea anche voi Di dove cazzo devo andare Ah sì mi ricordo Sei quello biondo che c'è la faccia da pirla Chi l'è? Sirauro 94 per due mesi Grazie mille Contento Giustamente il signor Marceline Perché su Adventure Time c'è una Marceline che è femmina Quello mi rincoglionisce la cosa Quindi allora Se avete aperto la mappa Vi illustro brevemente quello che andremo a fare Anzi io potrei anche aprirla da qui Potrei anche farla vedere No perché non c'ho testa Quindi me la tengo di qua Devo partire dal punto 1 Che è Home Farmi tutta la bellissima strada Che è bella bella lunga Dopodiché dovrei girare a sinistra In teoria Per andare a Loppe Perché a Loppe c'è il rivenditore No il cazzo Cosa c'era che mi interessava? Il 5 Ah il Care Repair Shop Quindi niente Devo andare per forza a sinistra Va bene Io adesso voglio provare a registrare Per vedere come viene Che in teoria sta registrando a 1080p E noi andiamo appunto su My Summer Car Ficcante eh Mamma mia come sono ficcante E allora narratemi un po' Come state Come state Siete contenti Siete contenti che domani c'è Il Black Friday? Ah l'hanno parciato messo a mercare Per quello che mi è tornata voglia di Metterci le dita Cosa ne penso di Pokémon Sole e Luna? Allora ci ho giocato circa 10 ore A questo Pokémon Sole e Luna E dopo le prime 4 ore di tutorial Devo dire che La faccenda si stabilizza La faccenda si stabilizza Diventa più giocabile Diventa Ma ho scelto una macchina bianca Ma che schifo Ma perché sono uno stronzo? Si stabilizza Diventa un pelino più difficile Sì sì infatti slot È quello che si fa oggi Oggi si va a recuperare il necessario E poi No è sempre gialla Oggi si va a recuperare i pezzi Che ci servono E il motore si monterà La prossima volta Infatti oggi È viaggio È viaggio Mi donazzano Nel frattempo vado a leggere Però voglio abbassare un pochino Dal mixer il gioco Markov I miei amici dicono Che non devo donare ai Twitch E comprarmi un mouse nuovo Invece che il mio è rotto Ma fotte sega PS la cichiva è troppo simpatica Va bene riferirò Grazie mille Chi se ne frega Poi i mouse sono sopravvalutati Ok ho abbassato un po' il volume di gioco Buono studio a chi studia E infatti Stasera si va a comprare L'attrezzatura necessaria E dopo di che la prossima live La prossima volta Un'altra Ma tua mamma lurida Ecco qua Driving mode Che è la G Mi inclino E tolgo Questa è casa mia Edbrake Entra Morinix Grazie mille Ma Morinix Non eri già Cosa succede Cosa succede Dimmi un po' Dimmi un po' Grazie mille comunque Perché faccio Inaction Quindi dicevo Che dove Ah si mi ricordo Sei quello biondo Che c'è la faccia da pirla Gennaro il caro Grazie mille anche a lei Due mesi Mamma mia Due mesi Sono già passati Ormai stiamo Stiamo invecchiando Ragazzi Stiamo invecchiando Un po' tutti Stasera non mi ribalto No non è nelle mie intenzioni Devo essere sincero Allora Devo andare qui Seguire la strada Fino al divio Poi andare a sinistra E mo Parte la prima sfida Padre gatto da pavia Soprattutto perché Sono a padova Deficiente Manteniamo la seconda Dai che Durerà un po' Il viaggio Ma almeno Chi va piano Va sano Va lontano Questo qui È una bella curvotta Ah Ah che rischio No Va bene Va bene va bene Come si vede in live Non è un gioco particolarmente fastidioso Quindi non dovrebbe dare troppi fastidi Vorrei sapere solo se si vede un po' meglio Perché appunto Sto streamando alla stessa qualità di bitrate Però a 1080p Perché altrimenti Non riuscivo a streamare a 720p Registrando a 1080p E allora ho messo tutto a 1080p Lungo la strada c'è Drunk Guy's House Io mi fermerei un attimo a vedere com'è Ma perché no Ops E' già dura prova la mia tempra Qui di guidatore Però Attenzione Lì vedo già il bivio Incredibile Non è stata per niente pesante Questa Arrivare al bivio Ora Adesso arriva la parte più lunga Devo girare a sinistra E farmi un bel viaggetto Un bel viaggetto Bello bello lungo Tra l'altro Va bene Ok Mettiamo Ok di qua E ci siamo Ok perfetto Dovremmo essere Ottimi Vogliamo il pollice Eeeh Non me lo ricordo mica più il tasto No Era là Oh Eccolo qua Sembra che ho tirato fuori il cazzo Siete contenti? Ok In teoria dovrebbero anche aver sistemato un pochino la fisica Nell'ultima patch No La merda Si fa Si fa Si fa tutto Si fa tutto I rischi incredibili del mestiere Pollice smonco Sto strecciato il braccio Guarda Che no merda Merda Mi son distratto Sono ancora vivo? No Merdas Ah Forca miseria Ah E' ripartito subito Aspetta Fammi prendere la macchina Color Schifo Vediamo Vediamo che ci sia un color decente Si faccio continuo Adesso Il furgone è sparito Perché se il furgone è sparito Non tocca ricominciare da zero E no No Però se non fosse sparito Il furgone sarebbe Un'ottima cosa Aia E il furgone No Si E' sparito Quindi niente Nuovo gioco Ci mettiamo un po' Adesso Ok ci risiamo Allora la prima parte Non è stata troppo difficile Che leggere la chat Non è esattamente comodo Mentre uno gioca questo gioco Quindi Sono un po' incasinato Allora dove cazzo Sto andando a finire Ok Ok Chiedo scusa Ok Allora metto la G Mi inclino Una live di 24 ore Un po' eccessivo Ah tra l'altro A proposito di live lunghe Vi voglio avvisare Che fra esattamente una settimana Faremo questa famosa live Maratona di Dark Soul Santo Dio Ma perché questa faccenda Deve succedere a me Quindi Giovedì prossimo Partendo dalle 10 Probabilmente Ci sarà la mega live Del mattino Del mattino naturalmente Ci sarà la live Di Dark Soul 3 Per recuperare Un po' dove cazzo È andato a finire Ok A posto Poi farò un video domani Che uscirà probabilmente Il lunedì Qui dico la cosa Quale Souls Va bene Non lo so Perchè miseria Ho di messaggi cancellati Eh sì È il mattino Non posso fare la live Il pomeriggio Anche perché Scoprirebbe la live Di Karim Scoprirebbe la live Della Roby E visto che non vogliamo Inglobarci uno con l'altro La faccio la mattina Ma perché devo rovinarmi Il parabrezza Che cazzo Eh si si spacca Bene Se no Non è che è una cosa Che vado a fare apposta Serve il 100% Dell'attenzione Per fare questa cosa Mi serve un volante vero Adesso me lo compro Domani c'è il Black Friday Mi compro un volante vero Da mettere Attaccato al PC Per giocare a questo gioco Ah sì Mi ricordo Per quello bianca Che c'è la faccia da pirla Sta il fosso Grazie mille Grazie per aver rinnovato Il nostro amore Anche se c'è Gabriel Che è diventato un goldone Settimane prima Perché ormai È imbattibile Ah sì Mi ricordo Sei quello bianca Che c'è la faccia da pirla Lennarg Va bene Grazie mille anche a lei Eh non so se questo qui È uno dei giorni X Per il rinnovo di Twitch Prime Ma se avete Twitch Prime Vi ricordo Intanto vi consiglio Di farvi Amazon Prime Perché domani c'è Il Black Friday E che Amazon Prime Di solito Ha delle squisitezze in più Nel caso che Nel caso vi interessi Appunto Aiuto Aiuto Va bene Vi fa fare la sub anche Però per dire Volante ufficiale del gioco Fatemi il mio marzo Ok Questo video però non Che cazzo Perché non ho messo in folle Ma c'è uno che mi è venuto addosso lì Ma sto deficiente Non so dove devo andare Allora sono arrivato fino a lì Ah ok Sono arrivato qui Devo girare a sinistra A sinistra Ok Vecchio di merda Ma dove è uscito Mi ha tamponato Potevo rimanerci offeso Almeno spero che sia quello lì il video Ma Me lo sei neanche nello specchietto Ciao sono proprio qua Sono arrivato Sono stato tamponato da un vecchio moro Ma come Ma vaffa qualcuno Che cazzo vuol dire Vaffa qualcuno tu Come vuoi Mi sono il vecchio Porca miseria Stavo dicendo che Giovedì prossimo Faccio la maratona Di Dark Souls 3 Ci sei tu? Quando? Ti svegli? Giovedì prossimo Va bene dai Alle 10 Astia che roba Del mattino però Qui su mezza dai Io parto alle 10 Voi arrivate quando volete Va bene dai Hai la mappa? No Eh merda Aspetta Te la trovo Ma il summer Car Anche perchè tra poco C'è un punto di salvataggio E quasi quasi Che dovrebbe essere questo Credo sia questo Vedere la mappa Ci dovrebbe essere una casa Che in teoria è questa qui Aspetta che spengo Ma è una mappa di bruttezza Proprio quella di Summer Car Eh si Allora te dove sei? Avete visto lo show? I Bastardi Io in teoria sono Al Drunk Guys House Sulla destra No Drunk Guys House Sulla destra Il giallo Esatto Dove in teoria adesso vado Vado a pisciare Steven Quinto La loppe? Sì Ma nel frattempo Mi donazzano Ed è il signor Hultain88 Che dice Ho perso una scommessa Sulla chat in corso Ah ok Grazie Perdetele più spesso Che culo Non per lui naturalmente Per me va bene Va bene così Ok ho spento Ma tu da dove parti? Dal mezzo? Eh si dall'uno E devo arrivare al cinque Ok ho pisciato Ho salvato Il furgone è lì dove l'ho lasciato Posso entrare nella casa dell'ubriaco Qui del marcio? No Però posso vederci attraverso Ma scusa Perché Perché mi segna Che è la casa Dell'ubriaco Se non Se non posso Averci niente a che fare Ah non lo so Perché gli posso andare A pisciare a casa A parte che può pisciare ovunque Quindi Vero anche quello Boh È un piccolo checkpoint Sono contento Di questa cosa Checkpoint Non sono mai arrivato Così distante da casa Comunque C'è da dirlo Essi solo a metà strada No non è vero No un po' di più Voi adesso In tre quarti Ok Ma il freno a mano Non serviva Non mette la prima Non mette la seconda Niente Non parte Perché non parte Si è rotta? Ah si è messo da solo Il freno a mano Ma perché? Ma che cazzo vuol dire? La tecnologia fa passi da gigante Pericolosissimo Stavo per fondere il motore Poi si che mi giravano le balle Eh si Buono Ok Adesso è tutta dritta A parte qualche Situazione un po' Imbarazzante Si che poi ho salvato Però se muoio Mi fa ricominciare comunque da casa Quindi non so quanto Si è servito Che cosa serve salvare? Eh per spegnere Perché è save in qui Ah Però vabbè Magari alt f4 ando Ricordiamo che dopo Si Ma è alt f4 Assoluto No no Dai alt f4 No no Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta In tennone Eh velocità smodata Guarda guarda che difficile Che cosa mi cazzo Allora Eh ma dai Dove sono arrivato qui? Velocità smodata Sono arrivato a Loppe Va via Scendi Buttavi il furgoncino Fatta Ok Tra l'altro devi tornare indietro Ti ricordo Oh che bella macchina Ciullala ciullala Si può salvare a Loppe? Si Si può salvare a Loppe? Vicino Ok Eh si ho visto Vicino al viola Che è l'importante location Buongiorno Hai per caso Google translator Cazzo Ma io sono un traduttore nato Dimmi a me Eh vabbè Joss J-O-S E-I E-I T Aspetta Un traduttore Ecco D-O-S E-I E-I T E-I No no Si è staccato Joss Spazio E-I Spazio T E-E Spazio Ok Toyota E la O E la A Hanno i due puntini sopra Allora Se non si fanno Toyota Spazio E-I Spazio Tu Con due U Aspetta Toyota Spazio E-I No Ah e-I Spazio T U Aspetta che lo sto leggendo A parte che è tolta Scusa Ho letto male Se non funziona Ehi Tu Bir Se non funzionano Aspetta Non è Quanto sta bevendo Quella birra lì Se non funzionano Tu Errori Sono stati controllati Va bene Non lo so Dal finlandese Tradotto Quindi dovrebbe essere giusto E lui è il meccanico Vabbè Dov'è che si salva Qui E non lo so Li piscio in macchina Me posso inculare Questa macchina qui Era veramente Lui si chei comunque Sì tantissimo Hanno il cesso fuori Questi qui Madonna Quanti pezzi di veicoli rotti Eccolo qua il cesso fuori E noi salviamo Ed artico Cosa vuol dire Gio sei Te Toita Ehi tu Vi reita Numa Numa Ie Ehi tu Cicieta C'è una macchina C'è una macchina Fica Se non si lavora Non si commettono errori Ci dice Signor Gabri Ah vedi Non sai niente Però neanche il traduttore Sei buono ad usare Io l'ho usato Benissimo Perché non ci sono Le umlaut Non so Metterle quelle Ma Ma Moro Eh Mi sono inculato la macchina Moro Hai inculato la macchina Cioè non lo so Non Aspetta prima compra i pezzi Per la tua Poi torna con quella Aspetta aspetta Penso la retro Ho sbagliato Me la posso inculare Fatta Aspetta che Ma hai prima comprare le robe Naturalmente Poi dopo torno con questa E alla faccia tua Stronzo Poi che piazza Sono in culo Chi se ne frega Guarda che bella Guarda che bella Si apre il bagagliaio Fammi vedere un po' La benza ce l'è Si apre il bagagliaio Wow La benza Vabbè La giucciamo da qualche parte Guarda qui Quante macchine Vabbè Buongiorno Fletaria Uno Tomaricaco Ma l'amo Dalle 8 alle 16 E non è aperto Però che ora è Io che ne so Di che ora è No Porco can E non so che ore sono io Oh E quindi E cosa E non so che ore è Qua c'è scritto Che è aperto Dalle 8 alle 16 Ma io non so E guarda il sole Guarda Nord e poi Fai la meridiana E dove cazzo è il nord E mi cazzo Non so ma scassina Ma guarda che c'è il tipo dentro Ma guarda che mi vede Oh coglione Ma se dalle 8 alle 16 Cazzo i tuoi Cioè non ho capito Allora Scimunito Mi apri per piacere Ma guarda che sono assettatissimo Così gli dici Wey cincio Guarda che l'ora è E non so Non mi posso Ma scusa Allora vabbè Cosa c'è Sono il meccanico Sì c'è il meccanico E l'ubriaco Qui davanti Ma cazzo E basta Anche tra l'altro Sta con i piedi Sopra Il cazzino E lì se ne smac... Ma vaffanculo Sai cos'è cos'è Sfondo la porta così Sfondo la porta così Sfondo la porta così Sfondo la porta via Ciao Addio strozzi Mi culo la macchina io Frecanieri Ma tegli tutto Spacca lì la sedia nel vento Madò che bello No Aspetta che Non so più buono a metterla retro io però Vabbè Facciamo così Dove vado mo? Quanto gira il volante di questo veicolo? Un po' eccessivo Ma che bella bestia oh Ed è mia Mamma Puoi anche andare a... No quelli sono 6 points E dove vado? Vado avanti Per repair shop E mus... E masculpar location No ma è solo... Però lo store dove c'è E per agiarvi Store e pub Andiamo lì che magari compriamo l'antimosca Ok Dai Devo andare a per agiarvi allora E ce nemmo con una bella Hai salvato qui sì Sì Hai con l'ant F4 pronto? AIEEEE Ah vedi Dicono comunque che Ha detto il gioco Deve andare al Teimo shop Per la cinghia comunque Al che cosa? Al Teimo shop E dove? E che sia allo store Lì a per agiarvi Ah non era quello dove siamo? Eh a quanto pare no Ostia Ma Eh aspetta che mi sono fatto Due 360 Non so se sono giusto Sì in teoria sono giusto Mi sentivo Proprio la strada Sì ma Non è buona stare dritta Sta macchina Ma che cazzo vuol dire Guarda E c'è la trazione dietro C'è qua? Eh vabbè Ma me ne infilo nel culo La trazione dietro Mi riprende il camion ciro Magari non l'hai costruito bene Eh mi sa Ho preso un'inculata E' un'inculamento E sono assetatissimo Tra l'altro Dai E dai Veicolo di merda Ma che inculata Che ho preso Guarda Vabbè però è una belva No Ma perché Perché questa cosa Stai andando Ma che cazzo vuol dire Sta macchina Scusa Ma guarda come gira Ma pattina Ma fatica Ma fatica Che poi c'ha tre marce C'è cazzo vuol dire Per tre marce Eh perché è una macchina D'accelerazione Ma c'è la seconda Che fanno E metti la seconda La fa facile Non ce l'ha la terza Ma scusa C'è la seconda E la seconda E la retta C'ha la D La seconda E la 1 E la seconda E la 1 Eeeh Quanto veloce Quanto veloce Che belva Che belva Ok Ok A posto Risolta Eeeh Che rettilino C'è la rettilina Dai Non ce la faccio Ce la faccio Mamma mia A parte che guarda in alto Mamma mia Dei toccare appena Non si può usare un gioco E' un gioco E' un gioco Ci siamo Ci siamo Che bestia Che bestia Amoro Andiamo subito Ehi Eeeh! Ma nooo! Ma nooo! Ma nooo! All'affiancata! Con quel che costa sta macchina mi aprono il culo! Ah! Tutta rotta! E che devo fare? Non so mettere la retro! Ok, il rally di Finlandia è bello, eh! Come non sai metterla retro? Eh no, non ce l'ha! Ma come non ce l'ha? La mia sera retro! Il finlandese si dirà... E' dietro! E' dietro! E sono assetatissimo tra l'altro! Eccoci, eccoci! Risolta, è risolta! Mamma mia! Eeeh! Quanto veloce, quanto veloce! La sfera del suono qua! E' matta la mia! Aspetta che freno un po'! Aspetta che freno, 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 freno! Aaaaah! Altra F4! Altra F4! Altra F4! L'ho premuto, l'ho premuto, l'ho fatto! Aspetta, aspetta, vediamo! Mamma mia! Mamma mia! Adesso è come Darksoul che appena muori ha salvato ce l'hai nel culo! Dai! Continua! Vediamo, vediamo! Attenzione! Attenzione! Tutto nero! Attimidante! Sono nel bagno! Yes! Ha funzionato! Mamma mia, ti ho trovato il trucco della vita! Wow! Wow! Eh eh eh! My summer care! Eh eh eh! Vai! Ti ho preso per il nesso! Ti abbiamo saputo! Sì no, ma quel cazzo che uso ancora sto veicolo della morte! Abbiamo trovato il buco! Abbiamo trovato! Eh eh! Va bene! Mi riprendo il mio vecchio furgone che almeno... Cato, lo hai bucato! Va bene! Guarda dove sto andando a finire! Eccomi qua! Scusi signor Sichessi, mi sono inculato la macchina, non lo faccio più che... Mi hanno capito! La madonna! Qualcuno mi donazza! Chi è un po'? Esther! Altra scommessa persa sul vocale di Curse! Zampuno! Va bene! Zampuno perché... Però non so se esca in live quella cosa lì! Grazie mille! Continuate a perderle! Infila la macchina nel furgone! Tra l'altro Moro, non so se tu vedi, ma io sto cercando di streamare 1080p stasera! Ehm... Forse... Adesso perché ho messo a qualità più stretta... Cioè, no, ho messo a qualità bassa... È l'unico modo per registrare comunque, porca troia! Allora, qui ho messo a ponte e non mi batterà, però... Poi anche dopo non è che chissà cosa e quindi... Eh, lo so! Quindi bisognerebbe fare una prova con un qualcos'altro! Però a bassa si vede effettivamente meglio! Ok! Va bene, va bene! Va bene, va bene! È perché sennò ho provato tutta oggi a registrare, non... 720 per forza! Visto che a me 720 fa un po' cagare in video! Eccoci! Guarda lì come si fa da dio con questo surgoncino! Altro che... La macchina... Ah, 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 ah! Fantastico... Che tenuta, che tenuta! Ora sarà uno scherzo guidare il furgone... Ormai tanto se è un mago del surgoncino, cioè... Che cazzo dai, no, no... Ho la sita in mano! Sì, sì... Eh, non di più... Se cazzo vuol dire non guidare il furgone... Ma, ma scusa, perché... Perché mi sto costruendo una macchina che probabilmente sarà come quella merda lì? poi non c'è un furbole però sarà il merda del furbole il vento peraltro c'è delle strade strettissime, sono una corsia e anche a gobba di muro questa è casa mia entri ma si ma a schiena di muro a greppo ma non sai niente non sai a schiena di muro no cerca allora no ma a schiena di muro ok ma non a gobba di muro ma si gobba nel senso che c'è quella risanenza ho di troppo linea al posto degli ammortizzatori è verissimo ma infatti è pericolosissimo io non credo che uno possa effettivamente andare in giro in queste condizioni ho dei violini a schiena d'asino a schiena d'asino c'era zoccolo di cammello ah tra l'altro vi annuncio una cosa voi seguitori del canale delle live quello di youtube questa sera faremo un esperimento sociale io sono sulla gente no faremo un esperimento sociale io moro e mark e ci guarderemo twilight ci guarderemo twilight registrando i nostri commenti in diretta tutto su netflix quindi nel caso qualcuno avessi voglia di vedersi un film con le nostre voci sotto noi facciamo 3 2 1 su netflix e niente uno se lo può gustare mettendo le nostre voci in sottofondo è una cosa geniale che mi era venuta in mente perché io sono un genio e magari non sai cosa puoi fare cosa posso fare praticamente a qualcuno bufferà eeeh roba così ci metti il timer nel video poi ma questa qui è un'idea guarda al bacio però non posso baciarmi le mani perché se no dove son finito io non lo so è nel deserto hai cambiato un'azione no aspetta 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 sono arrivato a paramporompo a paraggiaggi si una città nestosa grandissima il negozio dovrebbe essere lì una metropoli vorrei dire eccolo qua c'è un save anche qui ottimo ottimo grazie grazie che è il riassuntone perché trovi e dov'è il save qui c'è il benzinaro ma con due ruote hai fatto poverina la macchina come salvo e io non so dove sia effettivamente il save qui boh vabbè entro qui permesso buongiorno signor negoziante allora intanto lo mette per l'idea no ridoppiare no lo commentiamo ah allora l'olio del motore mi serviva ma era un taccia per cortesia cos'è il coolant il liquido refrigerante ah ecco qua il fan belt ottimo io prenderei anche il coolant comunque prendo anche il coolant coolant vabbè prendi anche il break il fluido dei freni il caffè mi serve no non ce lo metterei lo zucchero eh no aspetta mi dovrò prendere da mangiare perché per il ritorno mi sa che qua la situa non è uh quello per le zanzare ecco ottimo ho scritto spray me ne compro 8 di questi mi gioco un po' di stipendio qui compra l'olio proprio per il motore c'è? non l'ho preso l'olio per il motore vedo che c'è da fare il coolant come funziona qui meglio so di glielo dati oh me li ha mangiati potevi ciurare le portate nella macchina direttamente vabbè affanculo il motoro le hai preso l'omo hyperclean no sono già l'omo hyperclean io l'avrei preso e non me lo fa pigliare se no l'avrei preso ah il concentrato di succo perché no qui delle scatolette del succo e io sono sono assetato ma sarei anche un po' famato ah no delle patatine bravo bravo una cassa di birra che non fa mai male altre patatine sì cosa sono qua dei gelati dei bastoncini di pesce non riesco a zoomare non mi ricordo più qual è il caso potrei vedere sul canale delle live di gatto una volta che l'avremmo fatto esatto esatto l'ho detto l'ho anche detto l'ho detto l'ho detto non ho ascolta cos'è lo yes il che zuppi che zuppi no cosa giochi le macchinette eh ma old eh capito adesso l'ho visto ma c'è che mi ha bafferato fammi aggiornare va là vabbè a posto così quanto è il conto ma mille soldi soldi hai comprato tutto hai comprato aspetta che ha preso il sacchetto ho preso ah no aspetta mi dà anche delle salsicce per cortesia guarda che non l'avevo visto sì sì del salsicciame qua quanti soldi c'hai scusa mi metti tutto nel sacchetto poi ah gentilissimo e vabbè ma che scomodità ma vabbè ma come si apre questo sacchetto ma con che lingua mi parla questo tizio allora aspetta che mettiamo nel cassone eh la madonna addirittura ma che quanto guarda che bella animazione c'ha il sacchetto hai visto porcatroni non riesco più a raccogliere no ho preso il sacchetto per sempre ah no 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 mia minchia che ansia però allora eh che cazzo c'hai lì dentro che rumore esagerato che cazzo ho comprato dei sassi scusi ci abbiamo da appigliare la roba ah la birra trovo subito da salvare anche per carità e non so dove devo salvare c'è di da qualche parte è in teoria vicino a dove sei te vabbè aspetta un attimo adesso mi devo è in teoria sì che è qui che fatica però le sassi in realtà sono sassi eh sì perché l'olio hai sentito non ha fatto rumore cadendo eh che palle boh a posto grazie ben gentile adesso vengo dall'altra parte perché tu non sai che quest'uomo gestisce il locale da entrambe le parti è chiaro lui sono tutti cugini un po' come l'infermiera Joy esatto lui gestisce anche il pub infatti noi adesso entriamo per di qua è chiuso il pub ma perché è chiuso il pub e niente è chiuso il pub loro sono i cugini perestroiche ah c'era uno in macchina ah dietro dietro al negozio eccolo qua c'è la tua legge perfetto grazie Luke e io piscio guarda che la run perfetta questa la dovete f4are quando serve eh si va bene però io volevo mangiarmi qualcosa insomma ma la fan belt dovete la messa in un grosso acchetto cos'era la fan belt ah si la cinghia si 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 la cinghia si speriamo aspetta ho pisciato e adesso il pub è aperto giustamente funziona così eh si buongiorno mi dia mi dia un po' di vodka ah ti dici che non ti servono tre becchie ah eh vabbè adesso me la ciuccio allora è uno sciottino me lo ciuccio volentieri per che per che mi toglie la sete no vabbè dammi anche uno di quei cosini lì e dove va ah giustamente va non spendere perché ci sono un arco coglione no hai ragione mi sono peso della vodka però effettivamente la sto già soffrendo ah grazie gentilissimo questo qui lo sai che cos'è che mi ha dato da mangiare un prodotto tipico svedese che sono tipo patate salsicce tutto con salsa che io ho finito in un boccone aspetta che sono assetatissimo adesso dammi una birra vecchio eccola qua eccola qua e me la giuccio ale che non vuole mica modello di sete gentilissimo dicevi che mi serviva altro olio allora aspetta il motor oil prendi altre due tanniche valla perché il negozio adesso si è chiuso sai no è aperto no è chiuso merda moro piscia finché non riapre piscio che non ah dici che save and quit mi aiuta sotto questo punto di vista punto si spero che sono un po' storto sono ok riproviamo farò vedere anche se ti serve il liquido dei freni e non ho idea ok ma no sono ancora ciucco sono no no c'è ancora il pabeto c'è mannaggia è comunque solo lì abbiamo ancora chiuso il market vabbè vediamo se c'è qualcosa da fare qui dici che c'è oh aspetta che lì c'è una stazione di servizio magari mi fanno bere acqua anche perché sono un po' storto dopo quella vodka eccoci qua che luogo è questo qui ah un meccanico credo un meccanico serio non come quello di prima che era buongiorno signora ma anche pezzato l'hanno fatto questo tizio che schifo buongiorno cosa mi vende lei ispezioni mi ma glielo sta e guardagli la faccia questa porca troia ma glielo hanno incollato una faccia finita quello lì è terribile vabbè non mi interessa comunque arrivederci ah non si può uscire vabbè ma con che culo tutto sfatto male pezzato che schifo è odor veramente quello lì odor è proprio lì che ti dice odor 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 vabbè e qui non c'è una sega dai che sono tutto storto e super assetato c'è il salvadonnaio provo ad andare in chiesa magari una preghierina ti puoi fare credo sia una chiesa sì c'è una croce gigante è una chiesa guarda te che devo ridirezionarmi il coso qua ogni volta che sto puntando ovunque magari c'è una camera d'albergo non so e non mi dispiacerebbe infatti è quello che cercavo non si salta mica qui quindi e come fa uno come fa ad andare in chiesa ah no è di là deve andare che parla e deve saltare tu non puoi saltare non puoi andare in chiesa chiesa per l'acqua santa eh sì bevi altre birre non mi sembra una mossa vincente in questo istante magari dopo oh qua c'è anche un bellissimo monumento ai caduti credo sia un monumento ai caduti ma con delle insegne a led credo sia i nomi di quelli che hanno fatto sto gioco anche perché ninja rect non credo sia stai facendo un roleplay di uno sbronto perfetto buono cerca di saltare il muretto della chiesa che vuole andare a bere l'acqua santa proprio in chiesa non si può andare guarda te di quelle volte guarda una panchina e ti addormenti sulla panchina non so centro di recupero per alcolizzati non mi farebbe schifo insomma in questo momento guarda come sono imbarcato mi piace su Rainbow Six con due guardie di fianco con due guardie di fianco tutto rotto col collo però loro si stanno divertendo al pub l'oppe lì che quello lì è il pub quello che c'è nel giornale quando muori sai eh sì ma è quello che c'è restato la prima volta esatto gli amici del pub Nappo hai ragione io adesso voglio vedere se riesco ad aprire il mio sacchetto ma si è rotto il sacchetto della spesa ma che fastidio ma porca puttana merda adesso è uscito tutto guarda vabbè mi va e vabbè allora mi bevo un po' di latte tutto il cartone si è ciucciato e mi è buttato ma non mi ha tolto la sete però ma il latte è mica di seta allora aspetta che ma puttana non si apre questo fianco del cassone scusa ma come faccio ad accedere alle mie cose lì e non riesco mentre c'è piede non ci riesco una volta l'ho trapassato il florentino ma cosa cazzo è successo sono dentro vabbè bastava accucciarsi a posto allora il coolant non credo si possa bere l'olio motore nemmeno allora il juice si è da bere il juice ciuccia ciuccia questa la sete me la deve levare non mi ha tolto la sete non è possibile la birra no c'è qualcosa che non va non mi va più giù la sete niente sei inespro in casi morto è la fine per me eh sì dai no adesso che ce l'avevano fatta ma che fastidio mi scusi ho sete ho sete scusate dammi la birra che magari la tua mi disseta e magari si è partita la musica della morte niente ma non muore niente non mi disseta più niente vabbè niente vado di qua allora mi freddo vado a casa sua non muori ti va all'ospedale se ti uriati perché stai piacendo a dosso le persone c'era un tasto per far aprire la porta cosa del del pene ah di qua ma prova a salvare l'entraga magari un bug o meno alt'epicletta alt'epicletta posso rubarmi niente che tristezza vabbè vado a salvare quindi ma che me l'ha inchiuso dentro ma prova posso rubare niente che ruba tutto posso uscire non posso sono tutto storto sono ma lauta dai che ci divertiamo oh oh fai questa è casa mia entri o mg gastro grazie mille sei il numero uno ma giustamente è già salvato prima serve che risarvi esci e riemi hai capito si alto fu qua i grattini i grattini no affanculo ho le mani di un bambino finlandese allora continuo io per quello che non si può guidare pensi plot twist finale ok sono assetato ok e sono anche tutto storto sono assetato adesso apro il cassone mi bevo un juice si ma il problema mio rimane che adesso come cazzo ci torno a casa allora un juice un juice un juice ara lì puttana non ci arrivo ma vaffanculo ok juice ciuccialo mi ha tolto la fame non la sete anzi mi ha aumentato la sete perché mi ha aumentato la sete la birra mi toglie la sete perché la birra mi toglie la sete e il succo di frutta me la dà perché è zuccherato il succo di frutta e ho capito che devo fare bere la birra va bene dai beviamoci la birra guarda che la birra invece mi ha dissetato ma che cazzo vuol dire sta roba posso dormire qui alla fermata del bus e io vorrei passare la notte in qualche modo mi basterebbe sedermi magari per far passare la fatica non so bene dai benvenuto nel pub buongiorno buongiorno ve la riempio io la birra se fai su io signori vi rifillo tutto a lei tenga il resto alle salve nella mappa ci sono due cose important location e sillage job location ok aspetta che sto giocando è venuto mario merola non era non era ma senti questi che dialogano finchè da andare per il negozio non puoi comprare non posso comprare niente finchè non apre il negozio è per quello che cerca di passare la bocca prova a salvare i più oltre magari fa passare il tempo non è passato per niente prima eh dopo allora non in questo momento adesso sono un po' marcio per salvare vedi dicono che il liquido refrigerante ne servono per le tiglie ne ho letto mi ha dato i soldini mi ha dato non li perdo più ti servono me li sto giocando non li sto perdendo punto non me li da più ah ecco e poi quanti soldi c'hai tu scusa che cazzo ne so io e in alto non si vede eh no non lo so perché ho la qualità bassa 1868 c'ero quasi stavolta ho finito i soldi dai mi scusi non è che ce l'ha un euro lei ma voglio a pisciare ho già pisciato ma di salvare ma sei sicuro prova sono tutto torto marcio marco baldini simulator poraccio ma non sono mica i cavalli quelli vediamo un po' attenzione sto sentendo è diventata notte moro ma ancora ma il pub c'è ancora scusa è ancora acceso tutto ma il pub è per la vita di notte mio dio ma c'è il tipo del pub che mi fissa malissimo e fai continuo a salvare lì continuo a salvare perché non diventa giorno e compri roba al pub quanti zanzari l'ho già preso figlio due coglioni devo entrare e riuscire dal gioco venti volte e pu 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 oddio adesso è nottissima non è acceso neanche più il pub mi è stato un horror che ansia lo dai è tremendo cosa devo metterti paura non ci faccio scusi mio dio si aspetta che devo ammazzare assolutamente sta mosca che mi ha rotto i coglioni dove era qui l'antisanzare mosquito spray non riesco usarlo ah ah to suca quanto 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 scatti a un certo punto tiè siamo salvi no dai non è possibile tornata si è niente ma cioè non ho capito io siamo matti ma te ne devo usare è vuoto adesso e vabbè lo lanciamo via perché siamo in civili niente non è morta niente la devi da mangiare ah dopo la sauna dovrei usarlo lo spray si vabbè capire quanto specifica la faccenda attenzione no mattina presto presto su questo tempo sperando della salvezza continua a salvare perché fa passare il tempo ok continua a salvare perché fa aprire il negozio si tra l'altro cosa cazzo è successo dai non lo so io altf4 altf4 vabbè dai si risolta per il meglio la cosa è ancora chiuso come non detto io voglio vedere adesso vedi perché cazzo è successo ma che cazzo è successo mi hai sparato nella stratosfera perché tra l'altro sta passando la notte ma sei un po' ubriaco si veramente il tempo passa ma la ciuccheria rimane adesso in teoria insomma è giorno siamo qui ed è aperto yes cos'è che mi serviva ancora altro olio motore vabbè prendiamo un po' di tutto 2 di cooler pigliato pigliato ma prendi te compra tutto ma si ma che cazzo ce ne freghi ti repi lavarizia ma si meglio abbundare che ne ficcere giù c'è un'altra cassa di birra un po' di latte pastoncini fine patatine questo scatolame non mi serve ma si mette di parlare di questo cretino che sta parlando da solo della pizza posto così quanto è il conto mezzo milione tante care cose posso ecco qua senti quanto parla ma non me ne frega niente ma ma ci ha mori ammazzato cretino perché prendi il latte dal frigo senza aprire il frigo anche i salumi e mettiamo il sacchetto lì e direi che adesso facciamo un bel save e siamo pronti per ripartire la prossima volta eh si mamma mia che bravi però che siamo stati è stato spettaculare eh eh siamo stati bravi sono stati bravissimi figa bravissimi boh ringrazio Moro che ci ha fatto la compagnia questa sera bravo io ho anche registrato quindi in teoria magari può ceciare fuori un video vi auguro un buon proseguimento di serata noi adesso andiamo a registrare per voi e per noi Twilight perché ci andiamo è cretino di andare a prendere la roba a terra nel hai preso solo la borsa tu merda porca puttana vabbè tanto l'ho salvato vabbè non c'è più la prossima volta vabbè me l'ho rubata buonanotte a tutti buonanotte a tutti